Pranzo di lavoro all'Eliseo per il primo ministro ungherese, Vittor Orbán, in visita istituzionale a Parigi all'indomani del Consiglio Europeo, in programma a Bruxelles il 27 e il 28 giugno. Vogliamo un'Unione Europea sicura, autonoma e competitiva. Di questo e molto altro abbiamo discusso oggi a Parigi con il presidente Emmanuel Macron, ha scritto mercoledì su X, Orbán. Quella di Parigi è la terza tappa del tour del primo ministro ungherese dopo Germania e Italia, dove ha incontrato rispettivamente il cancelliere Olaf Scholz e la premier Giorgia Meloni. Orbán ha poi ricordato l'inizio della presidenza ungherese dell'Unione Europea, in partenza il 1 luglio. Tra i temi discussi con Macron, anche il sostegno all'Ucraina e all'industria europea della difesa, entrambi punti delicati per la vicinanza dell'Ungheria alla Russia. Grazie.